Ehi fu, siccome immobile, dato il mortarzo spiro. Ma sono aspettati. Stette la spoglia in memore, ormai di tanto spiro. Ma sì, è il 5 maggio, ma lascia sta Manzoni di Napoleone, siamo la Padova Water Marathon. Ci sono i cai, c'è da pagaiare, vai pagai, pagai. Scusate il posto, ma facciamo l'unboxing del sacco gara qui nel bagagliario della macchina, perché poi lo lasciamo qui, non ci portiamo peso inutile in gara. Allora, la maglietta bianca che ora Giulia fa vedere. Qui però... Dai! Padova Water Marathon. Mi sa, quella è la mia, madonna mia, io ho chiesto una M, ma questa... E questa è una M per giganti. È una M per giganti. Poi abbiamo un pacchetto di Waffer Loaker. Una lattina di birra Minabrea non filtrata. Questa è Salvella e Giulia. La bella anche te. Una barretta energetica alla banana della Decathlon. E poi ci deve essere... No, niente, poi c'è questo adesivo della Padova Water Marathon. E poi noi abbiamo i gettoni per il post-a-party. E in più il post-a-party, va bene. Andiamo a montare il kayak. Allora, per ora gli unici due Gumotex sono la canoa qua, la palava, la baracca, anzi. E' la nostra Sea Wave. Poi tutti gli altri sono Rigidi, oppure della Decathlon, che è sponsor tecnico e dai kayak a noleggio. Noleggio canoe, cui è lo sponsor tecnico Decathlon. Hanno gli X-100, il Touring 100, un po' di Touring 100 e di X-100. E il pagare normale è il 2,30. Però magari l'anno prossimo potrebbe venire la Gumotex come sponsor tecnico. Altri kayak avvistati, il Sevilor Hudson. Si, è molto largo come vedete, rivestito. Il Sevilor colorado. Tutti i kayak rivestiti, quelli da Sevilor. Ecco, questa è un po' le prue e la pompa rialzate. È la più grande, differente rispetto all'Hitwit Touring. Qua anche il fondo è stesso tipo, se lo ha dato, indimine. Degli X-500 singoli. Poi, ho visto un tante tavole da SAF. E poi, tanti X-100. Gli X-100. Sono da 3, ma la gente li pagaria in 2, perché francamente, 3 posti comincia ad essere un po'... Un po' stretto. Non ho visto i T-Wit Touring. Ci sono solo quelli del noleggio, ma sono nuovi. Sono l'Eco Design. Li stanno spostando ora, vedete. Tenda degli accrediti. E qui, dove stiamo aspettando le 9.40 per entrare in acqua. Stiamo curiosando tra i kayak. Ah, eccolo là, una carotona. Non avevo ancora visto un vecchio T-Wit Touring. Comunque, predominanza Decathlon in tutta la loro line-up. Ma soprattutto l'X-500. Qui va forte l'X-500. Poi qualche X-100 privato. Ma poi un paio di Savilor. Mi sembra di aver visto anche un Intex, un K2. E un altro Savilor. Due Intex. C'è anche l'Exclusion Pro là dietro. E un altro Savilor. Allora, c'è qualche problema in partenza perché c'è la corrente. Dobbiamo aspettare quelli dell'agonistica che finiscono la gara. Qualcuno si è cascato in acqua davanti. E noi siamo qua nelle retrovie agganciati. Agganciati qua sotto questi cavi. Almeno stiamo un po' fermi. Andiamo avanti. Si parte! Vai! Piano tesoro! Intanto c'è traffico! Ecco la gente che abbiamo davanti. Che è tantissima! Guardate! Stiamo sgranando un po' di posizioni. Vediamo che si è stato anche un K2 a sud con l'Orus. Si, si è molto lente piano. Sulla nostra destra sono quelli dell'agonistica. che stanno rientrando, stanno terminando il loro gare. Perché noi dovremmo stare sulla sinistra. Vi vedete un X500 tandem. Che sta andando incagliare nella registrazione. Stiamo guadagnando terreno. Non è competitivo, però, almeno per non trovarci intruppati quando ci sarà da fare il passaggio in fila indiana sotto il ponte, più avanti. Ospiti a quattro zampe che sanno stare finitosamente in ordine. Ciao! Come si chiama? Rocky, chiamami. Rocky! Rocky! Ciao Rocky! Rocky! È un cane stabilizzatore. È un cane stabilizzatore. Qui il ponte è stretto, quindi bisogna incanalarsi. No, sta dicendo... Chiediamo di non incagliarci contro la gente. No, lo so no! No, non so no! Evviva! Abbiamo passato il ponte dietro di noi, quello da passare uno alla volta. Le ponte sono un po' più basse e sono un po' più naturali, guardate che carine. Siamo di fianco alla passeggiata, all'alzaria probabilmente. Va bene, ottimo. Non dovrebbero esserci più quelli dell'agonistica perché arrivavano dall'altra parte. Siamo a vedere delle mura. Questi sono già le mura di Padova, di qualche villa patrizia della zona. E qui c'è un capolavoro penoso. Ciao capolavoro ploso. Quanto siamo belli! C'è anche una madonna che non è come la stella Maris della Palmare. E qui siamo già dentro Padova. Ci sono anche i cani di salvataggio nel caso qualcuno finisca in acqua. E qui davanti a noi il primo trasbordo, se ne saranno due. Il trasbordo, il primo. Profittiamo di un volontario. E adesso si aspetta. La fila per il primo trasbordo. Però noi siamo quasi arrivati. Il trasbordo è là. Per pastare queste cose. Ci sono i mari che ci hanno aiutato a rimettere in acqua. E adesso avanti. Ancora 15 km Giulia. Pagai tutti tu. Così per festeggiare. Guarda che mega aerone. Non scappa. Abita in centro Padova praticamente. I ponti di Padova. Adesso dopo il trasbordo siamo un po' sgranati. Perché comunque è un colo di bottiglia. Ombra. Non sembra che il duccio eh. Noi abbiamo deciso di togliere il pantaloni da vela subito. Non siamo partiti per il pantaloni da vela. Perché già faceva caldo stamattina alle 9. Buongiorno dai due in cammino. Oggi decisamente in kayak. Stiamo partecipando alla Padova Water Marathon. La 20 km non competitiva ovviamente. E siamo già dentro Padova. E oggi percorreremo un tratto del Bacchiglione. Che è questo. E poi anche un tratto del Brenta. Che sono i sogni dei fiumi di Padova. Bacchiglione 30. Ho paura del tratto che dobbiamo fare controcorrente. Ma in qualche modo. Magari pagagliano in due ce la faremo. Abbiamo già fatto il primo trasbordo. È stato un po' di fila. Per rimettere in acqua il kayak. E ora avanti. Adesso il primo ristoro. Non so come sono messi con le zanzare d'estate. Però sono belle queste case che faccio sul fiume. Vediamo ancora qualche vecchio tratto di mura. E ora sarà tutto un susseguirsi dei ponti. Perché siamo proprio in centro Padova. La Padova che non vedete di solito. Un'oca che si abbeva. Un'oca no? Sì sì. Ciao. Allora. Sì. Guarda che bello il ponte. Questo. Cosa facciamo? Prendiamo un pilone? Sì. Qui si è perché siamo quasi da soli. In realtà dietro di noi e davanti a noi c'è gente. T unity no? Ti Villa. qualito cosa? Tipo... Empire State... Per il idone Distribucioso. Sembra. Esilora. 2 canoisti davanti e una barca, tipo un vaporetto, navigazione assurda, e adesso ve la facciamo vedere tutta un'altra angolatura. Ciao! 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 Questa manifestazione però assomiglia tanto a tipo la corsa più pazza del mondo, dove comunque nella corsa più pazza del mondo chiunque correva con il mezzo a disposizione. Noi l'abbiamo visto fino adesso. La bici, cioè la bici è qui davanti e poi c'era un omino sul sup col kayak, col canino. Sì, però io il canino che stava disciplinato così non l'ho mai visto. Comunque il mio mito del giorno è questo fanciullo con la bici che cammina sulle acque, cioè che pedala sulle acque. Va 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 che figata! Lei è il mio mito oggi, lo sa? Siamo qui dietro insieme a quelli del Kuz Pavia. Siamo in una neve di piumini. Qui hanno murato e appunto avevano ingresso alle mura. No, c'era l'aerone fermo, immobile, cerca di fare in visibile. Qui c'era l'accesso alle mura, una specie mini dust. Vediamo un che succede qui. Momento pit stop dove vediamo se... di non... di là abbiamo le mele. E allora le mele sono finite, per cui si apposta a bere e anche... di là abbiamo la mele da scattolette di fragole, perché ci saranno tante altre persone. Siete padovani voi? Milano. Dove? Miranza lui, Milano importata io. Miranza dove? Io sono di Giussano. Dove? Vi salve acqua? No, ok. No, una lanta. Non l'abbiamo già fatta. No, no, no. Ok. Ristoro. Miam. 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 Una banchina. Tante nifè. 10 km all'arrivo. Che? Si chiama Malato ma sono solo 20 km eh. No, che 42 km. Sul kayak ha cominciato aiutare impegnativi eh. Sono sul kayak. Sì, ma c'era... c'era più... c'era più corrente. Era molto più mossa l'acqua. Insomma eravamo sul... sull'Adda. E anche sul Po però con l'altro. Con lo Story Division 2. Trovate i nostri video qui sotto in descrizione. La discesa del Po col campeggio fluirale con lo Story. Che è un kayak veloce eh. Ha i suoi riflettucci. Però comunque è un kayak veloce. Per cui mi ha fatto 45 km in un giorno. Senza grossi problemi. Allora davanti sono tutti kayak quelli rigidi. Stiamo andando a riprendere. Eh. Oh se li ripigliamo. Siamo alla chiusa. Del controsostegno San Gregorio. Però è aperta. Adesso può passare. Lo so finiti tutti gli altri kayak. Era pieno un attimo fa. Oh abbiamo sbagliato strada. Sono molto più avanti di noi. Sono molto più avanti di noi. Perciò va al gomito. Ecco lì. È segnato dallo staff. Perché se no si va via. Non so dove si arriva di là. Siamo al secondo trasbordo. Perché le chiuse. Come potete vedere. Sono chiuse. Quindi adesso trasbordiamo. Siamo a 14 chilometri. Esatto. Pagaiati. E non so se sono io che accuso la stanchezza. Però adesso sta diventando impegnativo pagaiare. Almeno per me. Comunque noi siamo in pista già dalle 5 meno un quarto. Quindi vabbè. Ma noi si continua in perterriti. Quasi arrivati. Adesso vediamo com'è l'acqua dall'altra parte delle chiuse. A tra poco. Ed ecco Giulia che si approfitta di uno dei sponsor della Padova Water Marathon. C'è ancora 6 chilometri da fare. Eh vabbè. Ok. Quindi sono già ripartiti. Che sono Sassy Wave. E là c'è il ristorno. Vado a vedere il ristorno. Il ristorno è chiuso deve essere un pochino meno forte di qua. Ma Giulia arriva. Oh dai. Arrivo. Ma ragazzi. Eh. Dessere il vantaggio in acqua. Guardate lì. Va bene. Gli ultimi 6 chilometri. Vediamo di farli. Siamo entrati nel 16esimo chilometro. Per cui ne mancano 4 all'arrivo. E niente. C'è un po' di vento. Adesso si è quietato. E c'è un po' di corrente contraria. Per cui facciamo un po' di fatica a pagaiare. Anche perché siamo un po' stanchi. Però adesso appena smetto di registrare. Ricomincio anch'io a pagaiare. Non faccio. Ho fatto tutto a Giulia. E niente. Però ci è piaciuta. Perché sì. C'è un po' di congestione ai trasbordi. Ma da parte ci sono tanti partecipanti. Però comunque l'organizzazione è buona. Ci sono tutti i volontari dello staff. Che aiutano ai trasbordi. Per cui a spostare i kayak. A metterli in acqua. Ti tengo un fermo il kayak. Mentre tu rientri. Per velocizzare le operazioni. È bella. È un'esperienza che vi consiglio. Se non avete il kayak. Lo potete noleggiare qua. Direttamente dal. Dall'organizzazione. A metterli in acqua. È kommerミalizzazione. Esatto. Qual è la pr disproportionazione. Molta ci sia un po' di plastica. Lasciamo il Brenta e siamo tornati su Bacchiglione, quella era il ponte che stamattina si passava uno alla volta. Adesso noi abbiamo gli ultimi due chilometri, due chilometri qualcosa per tornare alla canottiera di Padova e concludere la Padova Water Marathon per il pastaparty che sono 20 chilometri anche se è anche chiamata Marathon. Comunque è bella faticosa ugualmente perché 10 chilometri sono controcorrente. Per il mio gps non so se si vede siamo entrati nell'ultimo chilometro. Comunque pagheranno in due 4.2, 4.5 perché stiamo controcorrente. La andata era molto più facile. Eh sono anatre. Ok. Quindi bisogna starci lontano. Andiamo via. Eh lo sapevo, lo sapevo. Andiamo via. Andiamo via. Andiamo via. Andiamo via. Eh quanto siete antipatiche. Quanto manca? Quanto manca? e... il tre dai che manca pochissimo sentiamo la musica ci sono le bandierine del traguardo quindi sono gli ultimi metri prima dell'arrivo siamo stanchi io soprattutto andiamo contro una boa ma siamo contenti matti non andiamo contro la vegetazione dietro di noi ci sono tre matti sull'itiwit che sono stati divertentissimi e niente siamo felici stanchi e affamati c'è ancora acceso? dai 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 arrivati quattro ore c'è un po d'acqua dentro adesso Giulia va a mangiare io comincio a svuotare ok ristoro finale pasta acqua frutta bicchiere di baffer e birra tu bicchiere di baffer e bicchiere di birra adesso sei finito di pagaiare si può bere ok bevete dopo aver pagaiato Rocky! Rocky! Rocky era quello che c'era sul soup non so se si vede ma è brandizzato anche il gettone del pasto palla cuota e maraton non so se la vedete lì in fondo nascosta dietro l'ospigliatore della birra che mangia l'ultimo piatto di pasta a sugo che c'era in cucina noi si aspetta 15 minuti per il risotto solita fortunata Giulia eh ciao ciao qui 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.